ciao a tutti sono francesco dei talent sommelier finalmente siamo tornati con un nuovo video oggi voglio andare in un argomento diverso voglio parlare un po di storia voi direte come storia c'è un canale del vino arrivi temi parli di storia no voglio raccontarvi una storia ovviamente legata al mondo del vino la storia che voglio raccontarvi oggi è quella del Chianti Classico l'avete sicuramente notato quando andate al supermercato enoteca ristorante avete notato che c'è i Chianti e Chianti Classico cosa si intende per classico partiamo da questo da questo appunto per classico si intende il vino che viene prodotto nella zona originale ovvero dove è nato appunto per quanto riguarda il Chianti nel Chianti Classico Chianti Classico cos'è dov'è il Chianti Classico in Toscana si ma dove è la zona di terra benedetta dal signore che va da Firenze a Siena questa striscia di terra è stata contesa per anni appunto sia da Firenze che da Siena ci sono state innumerevoli guerre e la storia che vi andò a raccontare è la storia dell'origine del Gallo Nero ora voi prendetela con le pinze è una storia molto romanzata è una storia molto romantica diciamo così anche se non c'è il il bacio finale però comunque sia è quella che poi ha dato origine al Gallo Nero che è il simbolo ufficiale del Chianti Classico la storia tirandola a concludere è questa Firenze Siena si litiga come al solito si parla di molti anni fa non cose recenti tempi medievaleggianti Firenze Siena si litigano il terreno il territorio è da sempre stato così soprattutto nei tempi antichi stanchi di farsi la guerra stanchi dei morti delle enormi ingenti risorse impegnate decidono di risolvere la questione in un metodo alquanto singolare come funzionava funzionava in questo modo un cavaliere partiva da Firenze un cavaliere partiva da Siena e nel punto dove si incontravano questi cavalieri si sarebbe tirato una sorta di solco ovvero la parte cavalcata dal cavaliere di Firenze sarebbe stata ovviamente di Firenze la parte cavalcata dal cavaliere di Siena sarebbe stata ovviamente di quello di Siena qual è adesso la questione siccome sono tutte e due molto furbi cosa fanno ognuno si affida a un gallo perché al tempo non c'era lo smartphone per mettersi la sveglia allora cosa fanno scelgono due galli uno lo sceglie nero uno lo sceglie bianco Siena lo sceglie bianco Firenze lo sceglie nero due strategie diverse siccome il gallo è quello che alla fine aveva in pugno tutto cosa fa il popolo di Siena decide di riempire di mangiare questo gallo dicono pensano ok noi mandiamo il gallo al letto bello pieno con la pancia bella piena domani si sveglia bello in forza canta all'alba bello forte il nostro cavaliere lo sente parte e guadagniamo terreno dall'altra parte a Firenze fanno l'esatto opposto cosa succede loro scelgono il gallo nero e gli dice noi non gli diamo un niente da mangiare a questo povero gallo così domattina si alza perché ha fame e canta disperato perché vuol mangiare indovinate quale dei due ci ha indovinato esattamente quello di Siena cosa mi sveglio a fare sono a pancia piena me ne dormo bella veata il poveraccio di Firenze invece inizia a cantare a squarciagola perché ha fame quindi canta addirittura prima dell'alba il cavaliere di Firenze parte al galoppo senza mai mai fermarsi e quindi guadagna più terreno rispetto a quello di Siena che parte ovviamente in ritardo questa è una leggenda e quindi è per questo che Chianti Classico è principalmente il Chianti Classico è legato a Firenze quindi questa è la leggenda che sia vero o no non lo sapremo mai quindi questo è il motivo per cui il Chianti Classico ha il piccolo gallo nero su ogni etichetta noi ci vediamo presto prestissimo con un altro video ciao da Francesco